benvenuti benissimo no? benvenuti dove? che ne so oggi vediamo la classifica dei top 5 music video di sebastiano serafini nel 2017 perchè non dimentichiamoci che prima di fare video a cazzo è un cantante l'arte è arte, non si mette mica da parte ciao a tutti ragazzi questo è uno spin off della mia classifica dei miei 10 momenti preferiti del 2017 oggi facciamo la classifica a cazzo dei miei 5 music video preferiti di quest'anno allora sono usciti ben 8 video quindi ho un'ampia scelta al quinto posto metterò il video di clear che è un video che avevo girato in realtà nel 2016 però è uscito questa ballerina che balla su ste travi per aria nello studio della mia agenzia e poi al quarto posto abbiamo messo il video di tornado quello con joy che era questo video il primo video un po' diciamo un po' anni 90 sembrava un po' boy band con io e joy che cantavamo la canzone di tornado e tutti qua che ballavano a cazzo e è stato molto divertente tra l'altro quello era una collaborazione anche con la meiji e quindi è stata una bella cosa che questa marca di cioccolato poi al terzo posto si è classificato on the run che è l'ultimo video uscito l'anno scorso che è questa canzone anche qua che l'abbiamo girata in italia con anche joy e al secondo posto si è classificata invece il video di trust the light che è il video mio forse tra i più visti tra i video musicali che ha fatto più di un milione di visite è uscito a gennaio dell'anno scorso al primo gennaio e sono io che cammino per sta strada di napoli chiusa a cazzo e al primo posto si è classificato il video di fire anche qua che l'ho girato all'interno di una scuola con Aki e Joy l'ha editato Max Rambaldi ci sono tutte queste scene un po' di metà manga e metà cosa e secondo me è un video che è venuto molto simpatico l'abbiamo registrato all'interno di Bunka Fukusoga Queen e sono anche andato a vedere sul canale principale un fashion show se volete andarvela a vedere non sono entrati in classifica Eclipse che è comunque un video che mi è piaciuto molto Tornado versione normale perché secondo me l'altra versione era più spumeggiante e non sono entrati in classifica neanche Your Night che è un altro video che secondo me è venuto bene però questa volta non è entrato in classifica non ho messo dentro Alive perché è uscito quest'anno se non vi siete ancora visti i video di Alive Trailer Tanto ormai il trailer lo ha continuato a vedere andatevelo a vedere e grazie mille sempre per sopportare questo canale e ditemi voi qual è stato il vostro video preferito di Sebastiano Serapini quest'anno ciao e iscrivetevi A presto